Ingredienti per 4 persone 320 grammi di bigoli 8 cucchiai di olio di oliva 1 cipolla grossa Acciughe Sale e pepe Preparazione Soffriggere la cipolla affettata finemente in olio con acqua e sale A cottura ultimata aggiungere le acciughe lavate e tritate Lasciare rosolare per qualche minuto e schiacciare con una forchetta Spegnere il fuoco e aggiungere l'olio rimanente Condire i bigoli con la salsa ottenuta Il piatto è pronto Buon appetito